Ciao, sono Andrea Cecchetti, lavoro per Ilva Saronno, specificamente sono Marketing Manager di Saronno e oggi siamo qui in LUC perché siamo stati invitati a partecipare all'Innovation Challenge insieme ad alcuni studenti del corso internazionale. Mi sono laureato in LUC nel 2010, ho seguito i corsi di International Business Management in specialistica e mercati internazionali in triennali. Oggi è stato bello e piacevole essere qui dall'altra parte, mi piace dire, perché proprio otto anni fa, seguendo sempre questo corso sull'Innovation Challenge, mi trovavo tra i banchi della LUC, invece oggi siamo qui con Gabriele che poi vi parlerà a parlare proprio di un progetto di Ilva Saronno e a vedere se i studenti della LUC avessero qualche buona idea e spunto per aiutarci anche a lavorare e lanciare anche qualcosa di nuovo in questo mercato. Ciao, sono Gabriele, un laureato LUC nel 2015 in percorso Marketing e per me oggi è stato un piacere tornare qui a casa in un'altra veste insieme al mio collega Andrea. Da poco ho iniziato un'esperienza in Dissaronno sul mercato Italia e oggi siamo venuti a sfidare gli studenti LUC con un Innovation Challenge su un nuovo prodotto che vogliamo provare a lanciare, un Dissaronno Sour Ready Cocktail. Vedremo cosa riusciranno a fare gli studenti LUC. Grazie a tutti.